Prima parte attiva del progetto Urban Act, il network di 21 città europee che collaboreranno nello sviluppo urbano integrato legato alla riqualificazione delle aree militari. Oggi per la prima volta chiamiamo raccolta gli stakeholder locali della città di Piacenza, gli attori urbani. Questo perché il progetto prevede che ci sia una partecipazione attiva, una copartecipazione, un co-design sulle scelte progettuali che verranno portate avanti da questo network. In particolare rispetto a tre aree militari presenti in città su cui chiediamo oggi la collaborazione attiva di questi stakeholder per formare dei gruppi di azione locale. Questi gruppi di azione locale dovranno lavorare a stretto contatto con l'amministrazione per trovare soluzioni possibili da realizzare all'interno di queste aree. Ovviamente il progetto Urban Act non sarà il solo per la valorizzazione delle aree dismesse. Accanto ad una progettualità più ampia di respiro europeo che dovrebbe dare suggerimenti, idee e stimoli sulle buone pratiche attuate anche dagli altri paesi, in realtà questo rafforzerà ulteriormente l'azione quotidiana che da tempo stiamo portando avanti. Quindi è un ulteriore tassello, un rafforzamento che, dico un'ultima cosa, potrebbe essere anche interessante perché non si sa mai che possa attirare interessi anche dall'esterno in termini di investimenti e di possibili nuove destinazioni per queste aree. Grazie a tutti.